Che partecipa a un cenacolo I maestri immateriali ripetono che ogni persona che partecipa a un cenacolo deve assumersi la responsabilità di fare un uso costruttivo di quanto questa esperienza le può offrire non solo nei confronti di se stessa ma anche nei confronti degli altri. Ciò che si riceve dai maestri non ci è dato per essere nascosto affinché nessuno possa usufruirne. Ma per trasmetterlo a chi ne ha bisogno. Ecco il vero motivo della divulgazione.